Mamma, noi siamo qui tutti che ti stiamo aspettando, noi ti vogliamo un sacco di bene, nessun problema, se ci sono qualche problema da risolverli, li facciamo tutti insieme, li risolviamo e non ti preoccupare, ti stiamo qua, ti stiamo aspettando, torna presto, ti vogliamo un sacco di bene. A parlare con la voce spezzata dal dolore e dalla preoccupazione Roberta, una delle figlie di Teresa Azzolin, la donna di 54 anni scomparsa da Carmignano di Brenta circa una settimana fa. L'ultima volta che marito e figli l'hanno vista aveva detto loro che sarebbe uscita per andare al lavoro e poi a far la spesa, ma da quel momento di lei non si è più saputo nulla. Quando i familiari non l'hanno vista rientrare hanno dato l'allarme, i carabinieri hanno localizzato il cellulare in piazzale della stazione a Vicenza. Quando sono arrivati sul posto parcheggiata c'era l'auto di Teresa, questa Toyota Yaris rossa. All'interno gli investigatori hanno ritrovato il cellulare e un giubbotto da uomo che nessuno della famiglia ha riconosciuto. Pochi giorni più tardi a casa della donna arriva una lettera spedita dalla Lombardia, la calligrafia è quella della 54enne, poche righe nelle quali Teresa chiede di essere dimenticata. Passano i giorni e arriva un'altra missiva scritta sempre dalla donna. Poi il silenzio, un silenzio che con il passare dei giorni sta diventando insopportabile per il marito e i figli che vogliono lanciare un unico messaggio a Teresa. Insieme risolveremo ogni cosa, ma torna a casa.